Musica Ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video in questo video vi mostrerò brevemente in modo per farvi capire com'è, come funziona il gioco Battle City il gioco dei cararmatini che secondo me è molto carino vedete qua la coppia di cararmatini gialli e verdi che devono distruggere gli altri come vediamo qua, quelli grigi sono quelli più scarsi attenzione a quelli piccolini che sono quelli più rapidi agli oggetti che si possono raccogliere come vediamo il tempo il quale bloccherà i cararmatini l'obiettivo è non farla distruggere l'aquila, la nostra bandiera un giocatore ovviamente per me stage facciamo il numero 1 eccomi qua io con la Z sparo e con la freccia in su mi muovo classicamente nel frattempo cerco di fuori 1 il grigio chiaramente è molto più scarso quindi fuori 3 e con la freccia in su mi muovo possono essere estremamente pericolose Il viola, il tempo e quanto sarebbe La bomba ha salvato l'aquila Che stava per essere abbattuta E uno dei carri armati ne mancano Quattro, tre Fuori uno Ne mancano due Un viola All'appello Tre grigi Bene L'ultimo, due veloci, attenzione Quelli veloci sono terribili E li ho battuti Vediamo se riescono a non essere morti Ok, protezione con la delfino Bene, queste quante Ci sono 20 carri armati per round 14 ne abbiamo uccisi di quelli Zero di quelli con lo sparo più rapido E zero di quegli altri là Ecco che compaiono proprio Questi che vedete ci vuole molto Di più per ucciderli Sono Hanno più protezione E sono molto più ostici Bomba Importante Per già Terminare diversi Nemici Ok Fuori anche questo Bene Vediamo dei grigi Eh, luoghi come Vedete come le foreste Sono alquanto ostici Uh, mi hanno seccato Come osi Come osi, ragazzi Vedete, non è un luogo semplicissimo Questi ragazzi Perché La difesa di ferro Ragazzi Questa Significa avere la protezione Vedete che io se sparo Non 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 mi viene distrutta L'apida Per cui Per un totte di tempo Vedete Che Loro ci provano Ma non Vita Il carri armatino significa vita Quindi ci riprendiamo Quella che Era la vita persa di prima Purtroppo La La protezione A tempo Totte di tempo Eh, finisce Dicevo I luoghi più terribili Sono quelle foreste Dove non abbiamo Eh, modo di essere visti Si vede una fatica Vedete Bene Anche il secondo quadro È finito Quattordici ancora di quelli Uno di quelli Sedici Bene ragazzi Bene ragazzi Con 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 questo Video è tutto Vi ho fatto vedere com'è È un gioco molto Molto carino Io Giocavo tanto Quando avevo Da ragazzino Avevo Una console Che aveva questo gioco E si poteva giocare anche in due Avendo a fianco Il carri armatino verde Che compare Praticamente Nell'altro lato dell'aquila È Molto carino Da fare in due Perché appunto È molto divertente Poi si può costruire Possiamo costruire anche noi Degli schermi A nostro piacimento Altrimenti Seguiamo quelli Che ci ha già fatto il computer Quelli prestampati Diciamo Già fatti Bene ragazzi Per Battle City Per il momento è tutto Spero che questo giochino Vi sia piaciuto A me È sempre piaciuto Da fin da quando Sono ragazzino E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti